Salve ragazzi! Nella lezione registrata di oggi parliamo di verbi. Oggi vi spiegherò questi tre verbi, ma prima voglio farvi vedere un'introduzione. Parliamo in generale di verbo en français, che dividiamo in tre gruppi, che corrispondono alle coniugazioni, un po' come le nostre are, ere, ire. In francese abbiamo i verbi del primo gruppo, sono tutti i verbi che finiscono in R, tranne il verbo aller, vengono definiti verbi regolari. Poi abbiamo i verbi del secondo gruppo, che sono anch'essi i verbi regolari, finiscono in IR, ma non sono tutti i verbi in IR. Diciamo un discreto numero di verbi che finiscono in IR, rientrano nel secondo gruppo e quindi regolari. Perché poi c'è un terzo gruppo di verbi invece irregolari, tra i quali ci sono anche un discreto numero di verbi che finiscono in IR, quindi verbi che finiscono in IR, che non rientrano nel secondo gruppo. E inoltre ci sono verbi che finiscono in OIR, WA e R, ERP. Ok? Quindi, ricapitolando, i verbi in IR sono verbi del primo gruppo regolare, i verbi in IR in parte sono verbi irregolari del secondo gruppo, in parte sono verbi irregolari del terzo gruppo, i verbi in OIR e in RE sono verbi del terzo gruppo e quindi irregolari. Andiamo ancora avanti e vediamo la differenza tra verbi regolari e verbi irregolari. Osserviamo questo schema. Abbiamo un verbo come PARLER che finisce in IR, un verbo come FINIR che finisce in IR, quindi queste sono le desinenze invece sottolineate, vediamo la radice. PARTIR anche lui finisce in IR, LIR finisce in RE e SAVOIRE finisce in OIR, in NOIR. Ok? Come vedete abbiamo tutte le desinenze dei verbi, quelle che poi corrispondono alle coniugazioni. Qui abbiamo quindi i verbi che finiscono in R. Come potete notare, la radice di un verbo come PARLER, di un verbo che finisce in R, non cambia mai durante la coniugazione. Vedete? PARL si ripete sempre. Quindi questo è un verbo regolare. FINIR, vedete che la radice FIN si ripete in tutta la coniugazione. Questo è un verbo regolare. Invece andiamo a vedere i verbi IRREGOLARI. Adesso già vi faccio vedere questo. Ok? Quindi primo gruppo, verbi regolari. Secondo gruppo abbiamo detto verbi regolari. Andiamo a vedere i verbi IRREGOLARI, quelli cioè del terzo gruppo. Guardate come la radice PAT già qui cambia, non è più la stessa. E poi invece qui ritorna ad essere la radice, come quella dell'infinito. LIR, la radice LI, qui il percorso inverso. Qui la radice è uguale all'infinito, vedete? LI. Invece qui, in queste tre persone plurali, diventa LIS. Ok? E poi SAVOIRE. La radice SAV si mantiene qui, vedete? SAV, invece qui è diversa. Qui cambia la radice. Quindi questi tre verbi sono tre verbi IRREGOLARI perché, come potete notare, la radice cambia nella coniugazione. Invece nei verbi IRREGOLARI la radice rimane invariata. Ok? Andiamo a parlare, e questo lo possiamo vedere anche su questa riga, radice quindi che non cambia, radice che non cambia, e invece radice che cambia in questi verbi che sono del terzo gruppo. Andiamo a parlare invece di desinenze. Allora, per quanto riguarda i verbi IRRE, le desinenze le dovreste conoscere perfettamente, sono queste. Quindi a noi ci basta conoscere la radice dell'infinito e aggiungere queste desinenze. Ok? Invece per quanto, quindi E, E, S, E, ONS, E, Z, E, N,T. Per quanto riguarda i verbi IRREGOLARI, la radice saranno queste. IS, 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 ISONS, IS, E, Z, IS, ENT. Adesso poi vedremo come si leggono. E infine, per quanto riguarda i verbi IRREGOLARI, generalmente le radici sono sempre le stesse. Come vedete, S, S, T, S, S, T, S, S, T e poi ONS, E, Z, ENT, che invece è sempre uguale. Adesso, fermo restando che questo è un gruppo un po' particolare e magari ci faremo una lezione a parte. Andiamo a vedere un attimino, quindi, queste desinenze. Quindi, le desinenze dei verbi del primo gruppo sono le desinenze E, E, S, E. Queste qui non le citiamo perché sono sempre le stesse in tutti i gruppi. Questo qui è un gruppo un po' speciale. Le desinenze dei verbi del secondo gruppo saranno IS, IS e IT. E poi, nei verbi del terzo gruppo, le desinenze saranno sempre del tipo S, S, T. Come vedete qua giù, S, S, T, S, S, T. Quindi, S per la prima persona, S per la seconda persona e T per la terza persona. E queste desinenze, alcune si sentono, altre non si sentono. Quindi, per esempio, se io dico, je parle, la desinenza E, io non la sento. Je parle. Se io dico, je finis, la desinenza, questa S qui, non si sente. Se dico, je parle, la S non si sente. Je lis, la S non si sente. Je sais, la S non si sente. Ripeto, questo gruppo, io l'ho scritto giustamente perché va analizzato, però poi va analizzato un po' a parte. Quindi, quello che vedete qui è un po' un discorso a parte. Lavoriamo sui verbi irregolari del primo gruppo in contrapposizione ai verbi irregolari del terzo gruppo. Andiamo a vedere le desinenze che si sentono e che non si sentono. Quindi, queste desinenze qui non si sentono. Queste per il momento lasciamo stare. Queste non si sentono. Je parle, tu parle, il parle. Vedete, S, S, T non si sentono. Je lis, tu lis, il lis. Je sais, tu sais, il sait. E poi, anche questa desinenza qui in fondo non si sente mai. Il parle, vedete che mi fermo qui. Il parte, il lis, il sav. Ok? Quindi, è, ne, ti e muta come tutte le altre desinenze qua su. E invece, per quanto riguarda le desinenze centrali della prima e della seconda plurale, queste si sentono parlons, parlés, vedete, on, et, partons, partés, lisons, lisés. Savons, savés. Ok? A questo punto, possiamo passare alla nostra schermata dei verbi, dove abbiamo il verbo savoir, che oltretutto è un verbo che abbiamo già visto prima. Quindi, je sais, tu sais, il sait. Nous savons, vous savez, il sav. Ok? Quindi, possiamo osservare anche qui la desinenza, la radice che cambia. Da sav diventa sai, che si legge sé. E le desinenze che saranno s, st. E poi abbiamo la radice che invece si ritorna, quella dell'infinito, è un verbo irregolare, quindi la radice cambia più volte nella coniugazione, sarà sav. Nous savons, vous savez, il sav. È il verbo sapere. Il verbo voir, come vedete, è un verbo che finisce in oir, quindi lo possiamo inquadrare subito in un verbo del terzo gruppo, con le desinenze s, st. E in questo caso la radice voir si mantiene nelle prime persone, prima, seconda e terza, si mantiene anche qua giù, come vedete, la stessa. Ok? Invece cambia qui dove abbiamo l'aggiunta di una y al posto della i. E questa y mi va a cambiare un attimino la pronuncia. Allora io leggo je vois, je vois, il voit. Nous voyons, come se ci fossero due i. Voyons, voyer, il, elle, voit. Ok? Ricordiamoci sempre le desinenze che non si sentono. Queste tre è l'ultima. E infine il verbo mettre, è un verbo che finisce in re, quindi la radice sarà mett, ok? Quindi un verbo del terzo gruppo. Infatti le desinenze s, s. Adesso andremo a notare qui una cosa particolare. La radice mettre si ripete esattamente, perfettamente qua giù, invece cambia qui, cioè perde una t. Quindi anche questo è un verbo regolare. Je mets, tu mets, il mets. Non si sente neanche la t, quindi la pronuncia è soltanto la m con la e. Cosa succede qui? Qui non c'è la desinenza. Normalmente ci dovrebbe essere una t, ma come vedete non c'è neanche questa t, semplicemente perché già nella radice c'è una t, quindi non va aggiunta la desinenza in questo caso. Nous mettons, vous mettez, il mette, ok? Quindi questi sono i tre verbi da studiare. Studiandoli in questo modo, andando un po' a trovare delle regole di costruzione del verbo, diventa più semplice. Andiamo a vedere il passé composé con il verbo avoir tutti e tre. j'ai su, per dire io ho saputo, per dire io ho visto, quindi j'ai vu, questo è il verbo voir, significa vedere, j'ai vu, per esempio j'ai vu un film, oppure io ho messo, j'ai mis, quando per esempio descriviamo le vettement, l'abbigliamento, posso dire j'ai mis un survêtement, ok? E questo per quanto riguarda la parte dei verbi al presente. Qui invece vediamo i verbi al futuro. Allora, per quanto riguarda la costruzione del futuro, dopo aver visto come si costruiscono i verbi al presente, quindi facendo molta attenzione a quello che è la radice e la desinenza, costruire un verbo al futuro è molto facile, perché se noi guardiamo questa schermata in maniera veloce, possiamo notare come il verbo arriver, che è un verbo del primo gruppo, costruisce il suo futuro prendendo esattamente tutto l'infinito, vedete? arriver, arriver, lo scrivo tutto e lo scrivo in tutta la coniugazione, ok? E adesso ci aggiungo queste desinenze, che saranno le desinenze del futuro che si pronunciano e, a, a, on, e, on. Per ricordarmele devo fissarle in questo modo, dicendo che le radici del futuro sono ai, as, a, ons, es, ont, ok? Quindi, ripeto, per costruire un verbo al futuro del primo gruppo, quindi tutti, manger, parler, écouter, regarder, prendo esattamente tutto l'infinito, ok? E ci aggiungo le desinenze, quindi alla prima persona aggiungerò la desinenza ai, che si pronuncia e, in questo caso, j'arriverai. Alla seconda persona aggiungo as, tu arriverà, e così via fino all'ultima, il, elle, arriverò, ok? Verbi del secondo gruppo, verbi che finiscono in ir, in generale anche i verbi del terzo gruppo in ir, si costruiscono in questo modo. Quindi, prendo tutta la radice, finir, guardiamola anche qui, vedete come corrisponde perfettamente, ci aggiungo sempre le stesse desinenze. Quindi, je finirai, tu finirà, il finirà, nous finirons, vous finiré, il finiront. Prendiamone anche un altro, partire, prendo partire tutto intero, ci aggiungo sempre ai, a, sa. Je partirai, tu partirai, il partirà, nous partirons, vous partiré, il partirons. Andiamo a vedere un verbo del terzo gruppo, in r. Ecco, i verbi in r, in re, sono quelli gli unici che fanno una piccola eccezione. Come vedete, questa r cade, ok? Mettre, cade la r, e poi si usa sempre questa radice, quindi senza, scusate, cade la e, senza la e in tutta la coniugazione. E aggiungiamo sempre le solite desinenze. I, as, a, on, se, et, on. Je mettrai, tu mettra, il mettra, nous metrons, vous mettrai, il mettrons. Ok? Quindi, come vedete, la costruzione del futuro è molto facile. L'unica particolarità, ed è quella che va studiata maggiormente, è che ci sono giustamente delle eccezioni. Un po' come quando abbiamo fatto i passé composé, che avevano, i participi passati, avevano una struttura fissa per alcuni verbi, ma per altri verbi c'era un qualcosa da imparare. E in questo caso i verbi sono quasi sempre gli stessi, anche in questo caso il verbo essere, che costruirà il suo futuro partendo non da être, ma partendo da ser, un po' come in italiano sarò. In francese si dice je serai, quindi ci aggiungo sempre le stesse desinenze, je serai, tu serai, il serai, nous serons, vous serrez, ils serons, e così via. Quindi io devo imparare bene la radice del futuro dei verbi irregolari, quindi come avoir sarà or, e poi ci aggiungo sempre le desinenze che abbiamo visto anche prima, che sono sempre queste. Ok? Per aller la radice sarà ir, quindi per dire, per esempio, noi andremo, dirò con questa desinenza. Per venire, la radice sarà viendre, per dire voi verrete, dirò vous viendrez. Ok? Per faire, la radice sarà faire, il suono è uguale, ma cambia l'ortografia. e quindi ci aggiungo sempre le stesse desinenze. Abbiamo poi voudre per vouloir, je voudrais, tu voudrais, il voudrais, pour per pouvoir, devre per devoir, sor per savoir, e ver per voir. Ok? Per dire io verrò, vedrò, scusate, dirò je verrai, tu verras, e così via. E questo è il nostro futuro, per cui vi eserciterete e poi ci lavoreremo un po' in classe. E infine, per chiudere con queste regolette di grammatica, andiamo a vedere una regola molto semplice, sono i numeri ordinali, i numeros ordinaux. Ok? È molto facile, basta prendere il numero cardinale, a partire dal 2, e aggiungere il suffisso ien, quindi per esempio 2 più ien diventa 2e, 3, vedete, più ien diventa 3e, 4, qui cade la e, 4, ok? Cade la e, diventa 4e, 5, per renderlo possibile, dobbiamo aggiungere una u, 5e, 6e, 7e, 8e, 9 diventa 9, quindi 9, 9e, e infine 10, 10e. E per concludere, mancava l'1, perché si dice, non si dice unième, unième, ma si dice premier, première, e poi deuxième si può dire anche second, seconde. La lezione finisce qui, ci vediamo.